Benvenuti a questo video speciale, dedicato a un tema profondo e rilevante. Come sconfiggere la paura del giudizio altrui e vivere liberamente. La paura del giudizio degli altri può limitare la nostra felicità e la nostra crescita personale, ma imparare a superarla è un passo fondamentale verso la libertà interiore. Prima di iniziare ti invitiamo a iscriverti al nostro canale per accedere a contenuti simili che ti aiuteranno a vivere una vita più autentica e appagante. Ora immergiamoci in questo importante argomento. La paura del giudizio altrui è un'emozione complessa e profondamente radicata nella natura umana. Molte persone sperimentano questa paura in vari momenti della loro vita, ma comprendere la sua origine e i suoi effetti è fondamentale per superarla. Le origini della paura del giudizio possono essere variabili e spesso risalgono a esperienze passate, influenze familiari o sociali e persino una bassa autostima. Questa paura è spesso alimentata dalle norme e aspettative sociali che possono mettere in discussione la nostra autenticità e ci spingono a conformarci a modelli predefiniti. Un aspetto importante da considerare è che il giudizio degli altri spesso si basa su impressioni superficiali o opinioni personali. Le persone possono giudicare senza avere una comprensione completa della tua storia, delle tue esperienze o delle tue motivazioni. Questo giudizio superficiale può essere limitante spesso poco accurato. Inoltre è essenziale riconoscere che il giudizio non è necessariamente una condanna. Le persone giudicano per vari motivi, tra cui la paura, l'insicurezza, il conformismo alle aspettative sociali. È importante ricordare che il giudizio degli altri non riflette necessariamente la tua vera identità o il tuo vero valore intrinseco. Comprendere queste dinamiche è il primo passo per affrontare la paura del giudizio altrui. Quando riconosciamo che il giudizio spesso è basato su premesse superficiali e che ha radici nelle esperienze personali degli altri, possiamo iniziare a distanziarci da esso e a lavorare sulla nostra autostima e autenticità. La comprensione della paura del giudizio è il fondamento per superarla e vivere una vita più libera. La paura del giudizio altrui ha un impatto significativo sulla nostra vita quotidiana, influendo su vari aspetti del nostro benessere emotivo e psicologico. Comprendere questi effetti è fondamentale per affrontare questa paura e liberarsi da esse. Uno degli effetti più evidenti della paura del giudizio è la limitazione delle nostre azioni e delle nostre scelte. Spesso, per evitare il giudizio, tendiamo a nascondere parti di noi stessi e a comportarci in modo che rispecchia l'immagine che gli altri si aspettano da noi. Questo comportamento limita la nostra libertà e ci impedisce di esprimere appieno la nostra autenticità. Inoltre, la paura del giudizio può causare ansia e stress. Il pensiero di essere giudicati o rispinti dagli altri genera una tensione costante. Questo stress può influire negativamente sulla salute mentale e fisica, contribuendo a problemi come l'ansia, la depressione e persino disturbi fisici legati allo stress. La paura del giudizio può anche portare a un indebolimento della fiducia in se stessi. Quando temiamo costantemente il giudizio degli altri, la nostra autostima può erodersi e possiamo iniziare a dubitare delle nostre capacità e del nostro valore. Questo indebolimento dell'autostima può influire negativamente sulle relazioni personali, sulle opportunità professionali e sulla nostra capacità di realizzare i nostri obiettivi. Sconfiggere la paura del giudizio altrui richiede un impegno personale e una serie di strategie che possono aiutarti a liberarti da questa paura e vivere in modo più autentico. Ecco alcune strategie per affrontare la paura del giudizio. Accettazione di sé. Impara ad accettare te stesso incondizionatamente. Riconosci il tuo valore intrinseco e impara a trattarti con gentilezza e compassione. Quando inizi ad amarti per chi sei, la paura del giudizio degli altri perde gran parte del suo potere. L'autostima e l'autocompassione sono pilastri fondamentali per affrontare questa paura. Lavoro su autostima e sicurezza. Infesti tempo nello sviluppo della tua autostima e della tua sicurezza. Migliorando la fiducia in te stesso diventi più resistente al giudizio esterno. Ciò significa riconoscere i tuoi punti di forza, lavorare sulle tue debolezze e credere in te stesso. Empatia. Mettiti nei panni degli altri. Ricorda che tutti, compresi coloro che giudicano, hanno le loro insicurezze e debolezze. L'empatia può aiutarti a comprendere che il giudizio spesso riflette più la persona che giudica che la persona giudicata. Quando capisci che il giudizio può essere influenzato da preoccupazioni personali, diventa più facile distanziarsene. Vivere in modo autentico. Cerca di vivere in modo autentico e in linea con i tuoi valori e le tue convinzioni. Quando sei coerente con te stesso, il giudizio degli altri ha meno impatto. La chiarezza dei tuoi valori ti aiuta a prendere decisioni basate sulla tua autenticità, indipendentemente dalle aspettative esterne. Affronta le fonti di giudizio. Se possibile, affronta le fonti principali di giudizio nella tua vita. Questo può significare conversazioni sincere con amici o familiari o la creazione di confini sani. Spiegare alle persone che il loro giudizio può essere limitante e che desideri essere accettato per chi sei, può contribuire a migliorare le relazioni. Superare la paura del giudizio altrui ti permette di vivere in modo più libero e autentico. Quando non sei più vincolato dalle aspettative degli altri, hai la possibilità di esplorare la tua vera identità e perseguire i tuoi desideri e obiettivi con maggiore audacia. La vita diventa più appagante quando ti concedi la libertà di essere te stesso. Lascia che questa conoscenza ti guidi verso una vita più autentica e appagante. E ricorda, il processo per superare la paura del giudizio può richiedere tempo, ma ogni passo avanti ti avvicina sempre di più alla libertà interiore. Siamo giunti ora alla conclusione di questo percorso. In questo video abbiamo esplorato l'importanza di sconfiggere la paura del giudizio altrui e vivere liberamente. Abbiamo iniziato comprendendo le origini di questa paura, i suoi effetti sulla vita quotidiana e come il giudizio spesso si basi su impressioni superficiali. Sconfiggere la paura del giudizio richiede un lavoro interiore significativo. Abbiamo esaminato strategie per affrontarla, compresa l'accettazione di sé, il lavoro sull'autostima, l'empatia e il vivere in modo autentico. Ti invitiamo a mettere in pratica queste strategie e a iniziare il tuo percorso verso una vita più autentica e liberata dalla paura del giudizio altrui adesso. Per rimanere aggiornato su altri consigli per una vita appagante, ti invitiamo a iscriverti al nostro canale. Grazie per averci seguito in questo viaggio alla scoperta della libertà interiore. Ricorda, sei degno di vivere la tua vita in piena autenticità.